C'era una volta, alla periferia della periferia della periferia di una grande città, un quartiere, pieno di case alte, slanciate, piene di finestre. No, un po' tristi però, ma un po' squallide, tutte grigie. La gente ci andava solo a dormire, la mattina si svuotava, andavano tutti a lavorare nelle fabbriche vicino. Al centro del quartiere c'era una piazza, e nella piazza c'era un cartello con su scritto giardini pubblici, ma di giardino non c'era più niente. L'erba era tutta secca, cacche di cane, lattine calpestate, siringhe vuote, rami spezzati. Una volta nel giardino c'erano anche delle panche, tutte belle lucide, dritte, messe dal comune. Adesso le panche erano tutte spancate, e su queste panche, tutti i pomeriggi, si sedevano i pensionati del quartiere, quelli che stavano in cassa integrazione, si sedevano sulle panche, fumavano una sigaretta cercando di star seduti sulla panche, fumavano un sigaro, si raccontavano dei tempi di quando lavoravano ancora, e così passava il tempo. Però ogni tanto li vedevi che tutti insieme alzavano la testa col naso all'aria, come a odorare qualcosa. E infatti a una certa ora del giorno sentivi proprio, eccola, eccola, tutti che si girano, eccola, adesso stanno mettendo dentro la torta al cioccolato. Si sentiva proprio, no, 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 un altro diceva, sono i bignè, sono i bignè, stanno mettendo la crema, senti, 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 un altro, no, ecco, ecco, la panna. E odoravano, 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 anche perché con la pensione che avevano, più che odorare, non è che si potevano permettere molto. Gli odori arrivavano tutti dallo stesso punto, la pasticceria all'angolo del quartiere. Era la cosa più bella del quartiere, sembrava che da sola illuminasse tutto il quartiere. Era da lì che venivano gli odori. C'era scritto sopra, pasticceria del signore Augusto e della signora Agata. I due pasticceri. Sì, se ti mettevi davanti col naso, schiacciato alle vetrate della pasticceria, a vedere dentro tutti gli scaffali, una cosa che c'erano tutte le paste, tutti i cannoli che si infilavano sul bignè, che si appoggiavano alle sfogliatelle, e poi tutto sotto c'era tutto un ripiano, tutto un ripiano di pasticcini quelli per il tè, per te, per me, per lui, per tutti. Sì, e più sotto ancora una fila di torte, torta al cioccolato, torta al limone, torta alla nocciola, torta alla torta, pieno. Che meraviglia, ti veniva proprio, ti guardavi e ti veniva l'alcolina che ti scendeva. E se poi guardavi ancora meglio, schiacciando il naso ancora più sul fondo, là dentro si vedeva la porta aperta e la pasticceria, il laboratorio della pasticceria. E là sul fondo c'era sempre il signore Augusto, il pasticcere, che non lì lo impastava, con la pasta, che lo vedevi che proprio a lui quel lavoro gli piaceva, che ci metteva la gioia dentro, proprio con un grosso, come sembrava un panettone, sembrava. che stava lì, che impastava, che lo vedevi che proprio, che sudava, il sudore gli accalava dentro, lui impastava anche quello. Che meraviglia! E non si capiva come riusciva, con quelle di tona così grosse, a far uscire quei pasticcini così delicati. Agata, invece la moglie, era magra, secca, 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 come un grissino, come un grissino. Lei era velocissima, eh? Velocissima, nel negozio sistemava, puliva le vetrine, dava gli scontrini e soprattutto sistemava le paste. Il signore Augusto dava la forma alle paste, la signora Agata dava la forma alla forma delle paste. Erano una coppia veramente felice, sì, perché gli affari andavano bene, la pasticceria era conosciuta in tutto il quartiere, anche dai quartieri vicini venivano a comprare le paste. La domenica c'era una fila di gente, erano proprio contenti, perché erano, non so, no, non erano proprio contenti, contenti, no, perché non avevano figli. Avrebbero tanto desiderato avere un bambino o una bambina, invece non arrivavano, il tempo passava. E' sempre così, quelli che non lo vogliono gli arriva, quelli che lo vogliono. La sera si vedevano, si guardavano negli occhi, marito mio, moglie mia, tutta la pasticceria, tutto questo lavoro. A che serve, che senso ha se non abbiamo un figlio o una figlia? E dopo un po', sapete come la... Ti passa anche la voglia di fare le paste. Il signor Augusto era lì che impastava ancora, ma lo vedevi che ormai era sbogliato. Sì, impastava, le paste gli uscivano tutte, blu, 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 così. La signora Agata le prendeva e le tirava sugli scaffali. Le paste sfoglie si sfogliavano, i babà si sbabavano, e i capelli di Augusto e Agata diventavano grigi, come stava già diventando grigi alla pasticceria, come era già grigio il resto del quartiere. E anche quelli lì seduti sulle panchine, dopo un po' annusavano, ecco, la torta gli è riuscita male. Sì, e poi non hanno i figli. Non è che le cose c'entrassero, però... Sapete com'è, la gente è così, poi nessuno andava più a comprare le paste. Ma una notte, era una notte d'agosto, un sabato notte, una di quelle notti d'estate dove è lontano, dove cominciano i campi e finisce la città, si vedeva arrivare uno di quei temporali d'estate, che dal cielo vengono giù quei fulmini secchi che scrosciano... E però non piove, non piove, si sentono solo arrivare queste scariche elettriche che illuminano la notte... E il temporale piano piano si avvicinava alla città. Augusto era già a letto che dormiva, tranquillo, russava come un panettone. E invece Agata si rigirava nel letto, tutta gristinosa. Non riusciva a prendere sogno, non riusciva, i fulmini erano sempre più... E alla fine si alza, vado a prendere un bicchier d'acqua. Lei che non si era mai alzata di notte a prendere un bicchier d'acqua, mai. Si mette il pigiama, scende le scale che portano giù in cucina, apre il rubinetto davanti al bancone della pasticceria, prende un bicchiere, lo mette sotto, lo riempie e lo... E mentre lo sta per portare alla bocca un fulmine più vicino degli altri... Illumina tutta la casa. E allora Agata, invece di bere l'acqua, la rovescia sul ripiano di marmo. Poi prende la farina e fa tutto un laghetto intorno. Poi prende un pezzo di burro e lo mette dentro. Un po' di zucchero e lo mette dentro. Sei o sette uova e le schiaccia dentro. E comincia a impastare. A impastare. E mentre impasta pensa... Ma che sto facendo? Ma che... Ma tu guarda che alla mia età se uno si deve mettere... Mi sto appiccicando tutta che non... Questo è un mestiere che fa sempre a gusto. Ma perché mi metto qua di notte? Ma tu guarda... Che voglio fare qua? Non so neanche che... Che sta avvenendo fuori? Che cos'è questa roba qua? Mettiamola... Che cos'è? Una palla ho fatto. Ma tu guarda se... Se alla... Io non lo so. Bene, è che con questa che ci faccio. Ma... Ma adesso... Ehi... Ma questo è... Sembra proprio come un... Come la testa... Come... Come se avessi fatto. Vabbè... Ma tu che... Eh sì, però se adesso ci faccio anche... E aspetta, proviamo. E proviamo. Con questa faccio un bello spilatino lungo. Poi qua uno, due, tre, quattro, cinque. Le dita. Due, tre, quattro, cinque. Poi la attacchiamo. Poc! Qua! Eh? Guarda che sta! Sta tutta bene! Ma sono brava però, eh! Ma tu guarda adesso con quest'altro faccio un altro spilatino. Uno, due, tre, quattro, cinque. Da questa parte di qua. E anche... Poc! E l'attacco di là! Guarda che adesso sta con... Come le braccia che... Eh no! E adesso allora... Adesso gli facciamo anche le... Questo qua. Poc! Qua così. E poi il piede. Così. Uno, due, tre, cinque. Gli la mettiamo e... Poc! E glielo attacchiamo qua. Proprio sotto. E adesso gli facciamo anche l'altra gara. Gattraga. Guarda, ci sto riuscendo proprio. Chissà che... Dove ho imparato? Poc! Anche quella attaccata che... Vediamo adesso se riesce a stare in piedi da solo. A staccarlo. Ecco. Si tiene da solo in piedi. Ma guardate. Come quando... Come quando giocavo da bambino a fare i pupazzi di neve. E' uguale. Proprio che... Sembra come... E' alto come un... Come un... Come un bambino. E... E no. E no. La faccia? E no. E che si fa? Una faccia senza faccia? E no. Allora facciamo anche la faccia. Allora. Gli occhi, gli occhi, gli occhi. Prendo due amaretti. Eccoli qua. Poc! Poc! Così. Sì. Adesso il naso... Il naso... Una ciliegina sotto spirito. Poc! Così. Ecco. E al posto della bocca gli mettiamo una bella fetta... No. Metà fetta di limone così sorride sempre. Eccolo. Poc! Così. Eccolo. Sta così. Che meraviglia però. E' finito. Proprio che... Finito o finita? Aspetta. No. Perché... No. Bisogna decidere. Mica si può... Vediamo. Se mi ha avanzata e mi ha avanzata, facciamo finito. Un bambino. Facciamo un bambino. Con questo qua gli faccio quel... Eeeh! No. Troppo lungo. Pac! Così. Ecco. Pac! Questo glielo attacco qui sotto e con quello che avanza... Facciamo due belle polpettine e gliele mettiamo... Pac! Eccolo finito! Un meraviglio questo quando lo avete domani a un gusto... Anzi, anzi, gli faccio una sorpresa. Apre il forno, prende e infila dentro il forno e sta già per chiudere il forno quando un fulmine, più vicino ancora di quell'altro di prima... Illumina tutta la casa. Agatha chiude il forno e... Ma che sto... Ma tu guarda che mi sono sporcata tutta per venire a bere un bicchier d'acqua. Ma tu guarda, questo è Augusto che lascia tutto in disordine e uno si sporca solo anche quando deve riaprire il bicchiere, prende l'acqua, beve tutto l'acqua, la beve, poggia il bicchiere, si ripulisce ancora le mani, si riannoda il pigiama e risale le scale per andare a dormire. Si mette nel letto e si addormenta di sasso. Il giorno dopo è domenica e alla domenica i pasticceri devono svegliarsi prima di tutti gli altri perché comincia ad arrivare la gente se arriva a chiedere le paste. E lì c'è Giarno, Augusto che si stende da panettone, Agatha che si stira da grissino. Quando da sotto in cucina si sente... Mamma! Mamma? Ma chi? Augusto hai sentito... Papà! Papà! Ma chi è che parla? Chi è? Scotta! Scotta! Ma c'è qualcuno giù in laboratorio? I ladri magari... Presto! Presto! Il pigiama! Forza! La camicia! Dai dai dai! Scendiamo! 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 Vado giù e vedono il forno che so... Boom 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 boom! Scotta! Brucia! Scotta! Presto apri il forno! Aprilo tu! Agosto! Ma chi è? Tu guarda! Ma guarda come ci... Come ci sta guardando? Li guardava con due amaretti spalancati! Con una boccuccia limonosa che sembrava che dicesse dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio! Agosto! Agosto! Agata! Guarda! Cammina! Veniva verso di loro e diceva mamma! Papà! Mamma! Papà! Mamma! Agosto! Hai sentito? Ha detto mamma! Papà! Ma tu guarda! Agosto è proprio... È grande! Sembra un bambino quello che abbiamo sempre desiderato! Agosto! Agosto! Agata commossa si slanciò verso quel fagottino di pasta frolla e sa... Ah! Mua! 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 Che pezzo gli restò attaccato alla bocca? Toh! Facciamo allora anche Augusto commosso! Bambino mio! E alt! Agata lo fermò subito! Che quello lo faceva a pezzi se no! Lo massacrava! Caro! Lo vedi com'è fragile? È delicato! Così friabile! Lascialo stare così! Guarda! Guarda che meraviglia! È anche cotto bene eh! Guarda! E come lo chiamiamo a questo qui? Guarda! Guarda! Guarda come zampetta! Se ne corre già tutto in giro! Come lo chiama? Che? Che? Frollo! E certo Frollo! È fatto tutto di pasta frolla lo chiameremo Frollo! Frollo! E da quel giorno quello scognizzo si chiamò Frollo! E se ne andava in giro! Era il beniamino di tutti i bambini del quartiere! Già voleva imparare come si facevano i bignini! Si faceva insegnare da Augusto tutte le tecniche della pasticceria! Voleva sapere! Imparare! Guarda! La pasticceria rifiorì! Augusto si mise a inventare delle torte di sette piani! Arrivava gente anche dalle città vicine, dai paesi vicini! Ormai la pasticceria era diventata famosa! E adesso sopra c'era scritto pasticceria del signor Augusto, della signora Agata e aggiunto di Frollo! Sì! Ma sì! Il che alla fine a vederlo giocare così bello era come tutti gli altri bambini! Insomma, quasi! La mamma gli faceva le stesse raccomandazioni che tutte le mamme del mondo fanno ai loro bambini le stesse! Non resta fuori quando piove, perché sennò ti squagli! Ricordati di mettere un po' di zucchero a velo in testa, sennò ti secchi troppo! E soprattutto, ecco, questo sì! Attenzione a non andare a giocare con gli altri bambini verso l'ora di pranzo! È meglio di no! È meglio di no! Ma per il resto era come tutti gli altri bambini! E da quel giorno potevano davvero vivere felici e contenti! E la storia potrebbe anche finire qua! Sì! E invece arrivava in visita alla pasticceria di Augusto, Agata e Frollo niente di meno che il re del paese vicino con tutta la sua corte! Sì! Avevano ancora il re, come in Inghilterra, non si sa cosa serve ma ce l'aveva! Veniva in visita! Ma questo sarebbe stata un'ottima pubblicità per la pasticceria! Ma il fatto è che il re non veniva da solo! Si portava dietro il figlio! Il terribile Girmie! Girmie era un essere che mangiava! Che aperta dimorrava tutto quello che incontrava sul suo cammino! Appena nato! Già con tutti i denti! Appena nata! Aveva aperto la bocca! Se l'ha mangiato il dottore che l'aveva fatto nascere! La prima parola che aveva detto era FAME! FAME! Aveva detto anche un'altra parola appena nato! Verduzio! 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 Verduzio? Che cos'era il Verduzio? Verduzio! Che cos'era? Il lei e suo padre chiamò subito i più grandi esperti, medici, scienziati, a farsi spiegare che cos'era il Verduzio! E tutti che allargavano le braccia! Ma che ne sappiamo! Il Verduzio è una sostanza leggendaria! Si dice che... Si pensa che... Ma nessuno l'ha mai visto! E certo! E' una sostanza... Magica che... Che forse se... Se Girmi... La potesse ingoiare e mangiare... Forse non diventerebbe quello che sta diventando! Perché non stava diventando un bambino come tutti gli altri! No! Girmi... Cresceva gli occhi... Mangiava sempre! Divorava! Ingoiava! Consumava! Non smetteva mai! E adesso veniva in visita alla pasticceria! Tutto il quartiere appena seppete la visita... Sta arrivando Girmi! Chiudere tutto! Tutti a abbassare le sarcinesche, le serrande... A chiudere le finestre! Anche... Anche Augusto cercò di chiudere la serranda della pasticceria... Ma le guardie del re... Con due alabarde sotto la bloccarono! Allora Agata prese subito Frollo... E lo nascose nel camino... Sotto la ceneri! Non ti muovere! Resta qui! Bambino mio! Non ti muovere! Per carità! Ecco! Entrava la corte! Il re... Le guardie... E dietro... Eccolo! Il mostro! Girmi appena vide tutti gli scaffali con le paste... Am! In un solo boccone tutto lo scaffale! Am! Tutto il secondo! Am! Tutto il terzo! Già Augusto prendeva tutte le altre torte che aveva nel forno... Tium! Tium! E gliele tirava dentro la bocca aperta... Am! 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 E lui continuava a mangiare... Non facevano in tempo a impastare... Mettere nel forno... Tium! 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 Agata tirava tutti i cornetti... Po! Po! Am! 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 Non smetteva... Un giorno... Due... Tre... Non ce la facevano più... Agata e Augusto stavano morendo... Sfiniti... Si stavano trasformando in spogliatelle leggere e sottili... Sudavano... Non riuscivano neanche più a impastare... Lui ingogliava... Divorava tutto... Tutta la crema... Tutta la panna... Tutti i bignetti... Tutto lo zucchero... Anche sciolto... Così... Tutto... Frollo... Da sotto il camino... Nascosto nella cenere... Vedeva... Il suo papà e la sua mamma... Non ce l'avrebbero fatta mai... Mai... Quel mostro se li sarebbe ingogliati... Appena avessero smesso di... Di impastare pasta e di tirargliela in bocca... Che poteva fare lui? Ma perché non lo fermavano? Proprio adesso che aveva trovato dei genitori... Freschi freschi... Li doveva perdere così... Ma perché non gli davano il verduzio? Voleva il verduzio... Che glielo dessero, no? E allora... E allora se nessuno trovava il verduzio... L'avrebbe trovato lui... Sì... Lui da solo... Lui che era fatto di pasta frolla... Che era diverso da tutti gli altri bambini... Sarebbe andato per il mondo... Da solo a cercare il verduzio... Quella notte stessa... Non sapeva neanche lui dove andare... Non era mai uscito dal quartiere... Ma quella notte... Tra mezzanotte e mezzanotte e mezza... L'unica mezz'ora in cui... Sembrava che... Girmi... Si addormentasse... Restava... Con gli occhi... Gli occhi... Quello che aveva degli occhi... Con la bocca... Con tutta la crema che gli colava... Immobile... E in quella mezz'ora... Agosto precipitava addormentato nello zucchero... Agata nella farina... Frollo uscì... Dal cammino... Si tolse tutta la cenere che aveva addosso... Si avvicinò al bancone... Aprì il suo fazzoletto... Mise dentro un po' di zucchero a velo di riserva... Chiuse il fazzoletto... E piano piano... Uscì... Dalla porta... Non c'era nessuno fuori... Era notte fonda... Cominciò a camminare... Allontanandosi... Per l'unica strada che portava fuori dal quartiere... Poi cominciò a correre... A correre... Senza sapere dove andare... Doveva andare a salvare il suo papà e la sua mamma... Doveva andare a trovare il verduzio... Cominciò a prendere la prima strada che incontrava... Giù... 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 Verso i campi... Poi facendo attenzione a superare un piccolo torrente... Perché se si bagnava si squagliava tutto... E poi ancora un campo di grano alto... Che sembravano come le onde... Poi dall'altra parte... Poi ancora... Poi... E poi c'era un bivio... Un bivio... Un bivio a destra e una strada a sinistra... Prese quella a sinistra e continuò a camminare... A camminare... Finché la notte divenne giorno... E poi divenne ancora notte... E si ritrovò all'improvviso davanti... A un altro quartiere... Tutta la gente però era fuori... Dalle case... E guardavano tutti verso la piazza del quartiere... E là... Nella piazza c'erano delle assi di legno... Con sopra delle grandi luci... Che illuminavano al centro... Un mobile... Strano... Tutto lucido... Con tre zampe... E davanti il mobile... Era fatto tutto a torroncini bianchi e neri... Bianchi e neri... Bianchi e neri... Ma che cos'era? Frollo si avvicinò... A uno dei signori che stava aspettando... In fondo alla folla... Ma signore... Che state aspettando? Quello si girò... Come a dire... Come a dire... Come a dire... Ma che non lo sai? Stiamo aspettando il grande De Filippis... È il più grande pianista del mondo... Sono anni che aspettiamo il suo concerto... Abbiamo pagato fior di quattrini per ascoltarlo... Adesso alle nove... Finalmente comincerà a suonare per noi... Dai... Tu sei un bambino... Puoi pure entrare senza pagare... Avanti... Forza... Entra... Entra... Suonare... Frollo non sapeva neanche cosa... Che quel mobile lì si sarebbe messo a... Allora cominciò a camminare... Cercando di entrare in mezzo alla folla... Sbucciando a destra e a sinistra... Per avvicinarsi ancora di più... A... A quelle assi di legno... E capire... Ma mentre stava andando... Verso... Il centro della piazza... Sulla sua destra... C'era un'inferiata... Piano terra... E dentro si vedeva una luce e un corridoio... E in fondo al corridoio... Si vedeva un uomo... Tutto vestito di nero... Col cravattino nero... Una giacca nera che finiva con due punte... Le scarpe nere... E i pantaloni neri... Solo la camicia era bianca... E l'uomo stava appoggiato a un tavolo... E faceva così... Piangere... Quella cosa lì era piangere... Lui lo sapeva... Lui Frollo lo sapeva... Quando uno spruzza l'acqua dagli occhi... E piangere... Si... Lui l'aveva visto tante volte... Quando giocava con gli altri ragazzini fuori nel quartiere... Succedeva che quando uno cadeva... E si... E sbatteva qui... Oppure sbatteva qua la testa... E gli usciva una cosa rossa che si chiama... Langue... No... Can... Ram... Sangue... Sangue... Di loro... Che uno tradiva l'altro... Che i genitori li sgridavano... Pure quelle volte li schizzavano acqua dagli occhi... Però mica si erano fatti male fuori... Perché si erano fatti male dentro... Ecco... E quell'uomo lì adesso piangeva così forte... Che mi sa che si era fatto male fuori e dentro... Aveva fatto un laghetto per terra... Frollo entrò... In mezzo alle sbarre dell'inferiata... Si avvicinò all'uomo... E battendogli sulla spalla... Ma si può sapere perché piangete così... Che è successo? Lasciami in pace... Lasciami... Io sono il grande De Filippis... De Filippis... E che fate qua? Stanno tutti aspettandovi fuori... Dovete andare a suonare... Ma non la sentite la gente? La gente infatti erano lì... Che erano già le 9 e 5... Cominciavano a fare l'applauso... L'incitamento... De Filippis... De Filippis... De Filippis... Li sentite? Andate a suonare... Forza, sì... A suonare... E con che cosa suono io? Guarda! Non aveva più le mani... Aveva... Tutte delle bende sanguinolente qua... Ma non aveva... Più le mani... Ma... Cosa è successo? E De Filippis... Piangendo disperato... Raccontò che mentre stava andando... Al concerto... Guidando la sua auto... A un certo punto... In mezzo al bosco... Si era visto piombare dall'alto degli alberi... Una specie di ragno... Enorme... Che gli aveva dato una zampata... E il tergicristallo si era rotto... Con la macchina era finito contro un albero... Aveva tentato di lottare... Ma quello con due morsi della bocca... Strac! Strac! Gli aveva strappato le mani... E adesso... Non avrebbe più potuto suonare... E oltre al dolore... Della perdita delle mani... C'era anche questo adesso... Il dolore... Mamma mia che storia... Che storia... Per un attimo... Frollo... Gli era sembrato che... Quella... Fosse come quella... Girmi... Ma allora... Che fosse vero quello che si diceva... Che Girmi si poteva trasformare... In qualsiasi... Che lo stesse inseguire... Signor De Filippis... Non piangete così... Forza... Qualcosa dovremmo fare... Eh? Io... Se potessi vi aiuterei... Davvero... Che cosa però... Vedere un uomo grande e grosso... Piangere in quel modo lì... Frollo aveva un cuore così dolce qua dentro... Signor De Filippis... Se io potessi aiutarvi... Vi aiuterei... Davvero... Qualsiasi cosa... Non piangete così... Se io potessi... Se io potessi... Signor De Filippis... Ma io vi posso dare le mie mani... Io me le posso staccare... Quando voglio... Toc... Eccola qua... Questa ve la... La appiccico qua... La vostra e adesso mi... Toc... Toc... Anche quest'altra... Eccole qua... Eh? Signor De Filippis... Guardi... Ha delle mani nuove... Sì... Le mani nuove... Vattene via... Lazzami in pace... Lascia... Ah... Sì... Delle mani nuove... Ma... Ma come hai fatto? Ma... Ma che... Mi hai ridato del... Guarda le dita... Si muovono come se volessero già... E non sento neanche più il dolore... Ma tu chi sei? Mi hai... Mi hai regalato la vita... Ma... Che posso darti in cambio? Non so neanche come ti chiami... Io signore... Mi chiamo Frollo... Mi chiamo... Ma io ve le ho date le mani... Perché avevo voglia di darvele... E... Non so cosa mi potete dare... Io sto cercando il verduzzo... Per andare a cercare il mio papà... La mia mamma... Mi potete dire dove lo posso trovare? Il verduzio... No... Il verduzio... Ne ho sempre sentito parlare... Ma... Non so davvero dove poterlo cercare... Ma aspetta... Ma Frollo... Non te ne puoi andare così... Ma ti rendi conto cosa hai fatto? Mi hai regalato... Aspetta... 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 Ho qualcosa per te... Ho qualcosa per te... Mai avrei pensato di regalarlo a qualcuno... Apri una borsa di cuoio... Dove c'era dentro un'altra borsa di cuoio... Poi c'era un'altra borsa di cuoio... Alla fine c'era una borsa di cuoio... Tiro fuori un carillon... Di legno... Tutto vecchio... Tarlato... Tieni... Frollo... Qui dentro... Ci sono... Racchiuse... Tutte le musiche che sono state composte nel mondo... Dai tempi dei tempi... Apparteneva ai miei avi... Bisavoli e Trisavoli... E ci sono anche dentro... Tutte le musiche che ancora si devono comporre... Qua dentro... E ci sono anche tutte quelle che non si comporranno mai... Portalo con te... Abbi ne cura... Suonerà per te una sola volta nella vita... Quando ne avrai davvero bisogno... Va ora... Va... E grazie... Bello... Un carillon... Frollo non aveva capito nulla di quello che gli aveva detto De Filippis... Ma non importa... Lo mise dentro al fazzoletto... Insieme allo zucchero a velo... Se lo mise sulle spalle... Via... Uscì fuori di nuovo dalla feritoia... Dell'inferiata... E si rimise in mezzo alla folla... A guardare... Tutti che adesso... Tutti che aspettavano... Perché erano le nove e venti... E De Filippis non arrivava... De Filippis... Abbiamo pagato... Esci fuori o veniamo a prenderti noi... De Filippis... Eccolo... Eccolo lì... Eccolo... Sul palco... Aperto... Così con le mani che brillavano... Si sedette al pianoforte... E cominciò a suonare... E appena le dita... Di De Filippis... Stoccarono i tasti del pianoforte... Usce fuori una musica... Che non si era mai sentita... Sentite che roba... Sembra che stanno suonando in cento... E lui da solo... Non si è mai sentito un concerto... Ma tutti si dimenticharono di tutto... Del ritardo... Del biglietto pagato... Erano tutti lì con le orecchie aperte... La bocca spalancata... Senti come suona... Com'è dolce... Com'è pastosa... E anche Frollo... Era lì... Felice... Contento... Che tutti sentissero la sua musica... Che un po' era come se suonava anche lui... Non l'aveva mai sentito... Era proprio... Ma che sto facendo... Ma sto perdendo tempo qui... Quando io dovevo andare a cercare il verduzio... Per il mio papà e la mia mamma... Presto... Presto... Via... Qui... La musica la potrò sentire un'altra volta... Adesso bisogna riandarsene a cercare dove... Non lo sapeva neanche lui... Prese la prima strada fuori dal quartiere... Continua a camminare... Ancora per campi... Ancora per ponti... Ancora per ruscelli senza bagnarsi... Ancora un'altra volta... Un bivio... A destra e a sinistra... E che... Andò a sinistra... Quando non sai dove andare... Meglio sempre andare a sinistra... Da questa parte di qua... Prese un bosco... Si infillò dentro un canneto... E poi... Passando... Sopra... Degli alberi enormi... Guarda... Così intricati... In cima... Che non si vedeva neanche la luce del sole... Ma che sto facendo... Ma sto perdendo tempo qui... Quando io dovevo andare a cercare il verduzio per il mio papà e la mia mamma... Presto... Presto... Via qui... La musica la potrò sentire un'altra volta... Adesso bisogna riandarsene a cercare dove... Non lo sapeva neanche lui... Prese la prima strada fuori dal quartiere... Continua a camminare... Ancora per campi... Ancora per ponti... Ancora per ruscelli senza bagnarsi... Ancora un'altra volta... Un bivio... A destra e a sinistra... E che... Andò a sinistra... Quando non sai dove andare... Meglio sempre andare a sinistra... Da questa parte di qua... Prese un bosco... Si infillò dentro... Un canneto... E poi... Passando... Sopra... Degli alberi enormi... Guarda... Così intricati in cima... Che non si vedeva neanche la luce del sole... Un silenzio... Non si sentiva niente... Eh... Anzi no... Si sentiva come... Da lontano... Come la mamma... quando sbatteva lo straccio per pulire, solo che il suono adesso si avvicinava, era sopra gli alberi, era proprio sopra di lui, ma che cos'era? Diventava sempre più forte, da dove arrivava? Frollo si sentì sollevare da terra, da qualcosa di molto forte e duro che l'aveva preso per il collo e dopo un po' vide che guardando a terra gli alberi stavano diventando piccoli, laggiù in fondo e saliva, saliva sempre di più, ma chi era che l'aveva? Cerca di girarsi, ma vide soltanto a destra e a sinistra due enormi ali scure e nere che solcavano il cielo e andò su e ancora più su, verso la cima del picco della vetta di una montagna e lì, pac, fu depositato dentro un grande nido, fatto tutto di rami intrecciati, di paglia, fango e finalmente si girò per vedere chi è che l'aveva portato fin lì e qui, alla sua destra, c'era un'enorme aquila reale, con un becco tutto ricurvo così, che lo guardava come guardano le api. Benvenuto! Benvenuto! Io non ho mai sentito di uccelli che parlano. Ah sì? E io non ho mai sentito di biscotti che parlano. avanti, era da tempo che cercavo un bambino buono e dolce come te per far compagnia al mio piccolo nato. Quando io sono via, vieni che te lo presento, eccolo, è il mio pipitacchio. Era vero! Dentro il nido, prima non se n'era accorto, Frollo, dentro il nido c'era... c'era un... c'era un... c'era un tutto... c'era un tutto come la... con la testolina che se ne andava da tutte le parti, così l'occhio che si apriva e si chiudeva da fuori, tutto stitico, spellacchiato, col beccuccio che si apriva e diceva solo fami, 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 fami! E la mamma era lì che lo doveva ingozzare di tutto il cibo che aveva. Ah, è il suo pipitacchio, signora. Un bel bambino, un bel aquilotto, sì, molto. Però, signora, io non posso restare qui a far compagnia al suo pipitacchio, davvero. Mi dispiace, io devo andare a cercare il verduzio per il mio papà e la mia mamma. Mi dispiace, davvero. Facciamo così. Sarà per un'altra volta, eh? Magari passo, vengo su, ci prendiamo un bel tè insieme, chiacchieriamo, racconto delle storie. Eh? Mi dispiace, signora, davvero. Sarà per una... Ah! Ah! S'era dimenticato che lassù il mondo faceva... Ci volevano le ali per andare via di lì. Signora Aquila, ma lei non mi può lasciar solo... Ma dove se ne va? Ma già parte! Signora Aquila! Signora! E l'aquila era già lontana, un punto lontano all'orizzonte. Ma tu guarda! E che se adesso doveva star qui con questo... Esposta di pipitacchio! Mamma mia, quanto sei brutto, pipitacchio mio! Ma chi t'ha cercato a te? Ma tu guardi! Cosa mi guardi così? Pipitacchio lo guardava! E apriva il beccuccio di fame, fame! No! Fame, fame lo diceva tua mamma. Io non ho le ali, lo vedi? Non ho le ali, non ho... Quando arriva la mamma gli chiedi da mangiare. Ma tu guarda se doveva perdere tempo adesso e la mamma infatti arrivava, tornava, lo ingozzava di cibo, topi, serpenti, tutto quello che aveva cacciato, ripartiva, andava e tornava, andava e tornava, andava e... E non tornava. Come? Come non tornava? Oggi non era tornata! E domani? Neanche domani! E neanche dopo, dopo domani! Ma non tornava più, non si vedeva nessun puntino all'orizzonte! Perché... E che ci facevano loro due adesso qui? Con pipitacchio che... Che lo guardava! Fame! No, pipitacchio aspetta, adesso arriva, vedrai che la mamma... Un minuto solo che arriva, pipitacchio, tirati su, dai, eh? Tirati su! Pipitacchio, non fare così, non abbandonare la testolina, pipitacchio... Doveva essere terribile avere fame, era una sensazione che lui non aveva mai provato. Pipitacchio, vuoi che ti racconto una delle mie storie di come si fanno i bignè? No, la storia no, l'ho fatta! Pipitacchio, aspetta, la mamma sta... Ti giuro, ti giuro, pipitacchio, che sta per arrivare... No, non stava arrivando! Pipitacchio, tirati su! Era pur sempre un piccolo, un cucciolo... Frollo aveva un cuore così dolce qua dentro che... Pipitacchio, se io ti potessi aiutare, ti aiuterei, lo capisci che non posso... Il mio braccio... E va bene? E va bene, pipitacchio, mangia il braccio mio! Stocca! Mangia! Pipitacchio, appena vide quel pezzo... Oh! Tocca! 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 Subito, tu! Ehi! Era già finito! Eh, diamine! Era buono! Eh, ti credo, era mio! Bella roba adesso! Guarda qua, guarda qua! Bello! Un braccio in meno! Ma adesso quando torna tua madre mi sente però! Non si può lasciare uno qua da solo così e qui! Tornerà però, no? Tornerà! Non tornava! Passavano uno, due, tre giorni, quattro, cinque ancora! E ancora pipitacchio era lì! La testolina! Pipitacchio, tirati su! Che la mamma arriva! Vedrai che... Pipitacchio, non fare così! Pipitacchio! Pipitacchio, lo guardai! Come se dicesse, io fa! E tu hai ancora l'altro braccio! No! No! Pipitacchio, no! Mi dispiace, no! Mi è rimasto solo questo! No, non te lo posso dare, pipitacchio! No, non guardarmi così, pipitacchio! No, non mi guardare così, pipitacchio! Mi guardare così! Ma perché a lui gli avevano messo un cuore così dolce qua dentro? Toh, mangia di pure quest'altro, forza! Toh, mangia, forza, mangia! Subito, pipitacchio! Subito, tutto, mangia! Eh sì, bravo, no? Ne voglio un po', il mio! Ma figura, mangialo, forza! Finisci tutto, ecco, bello! E adesso? Guarda qua, un torso lo sono diventato! Un oggio! Ma adesso si arriva, tua madre mi sente però, eh! Non si lascia uno da solo qua così, non si lascia! Non arriva nessuno! Poi, poi che faccio? Ti regalo pure le gambe! E poi? Non si può! Perché non c'è nessun puntino! Eccolo! Eccolo! C'era un puntino all'orizzonte! Stava tornando! Ma era tutta inclinata da una parte e le ali si muovevano con molta fatica e con uno sforzo enorme riuscì a mettere gli artigli dentro al nido. Guarda! Ho tutte le ali insanguinate e ferite. Guarda! Dal becco e dall'occhio gli scendeva giù un rimolo di sangue. Guarda! Che era successo? E l'aquila cominciò a raccontare che mentre cercava del cibo, sopra gli alberi del bosco, si era vista salire da un gatto enorme! Era in tesca che l'aveva afferrata per le ali! Lei gli aveva dato un'artigliata, lui gli aveva dato una zampata, lei gli aveva dato una beccata, avevano lottato per nove, dieci, undici giorni e solo alla fine lei era riuscita a liberarsi! Ma guarda a che prezzo! Sono tutta ferita! Un'altra storiaccia! E anche stavolta quella faccia sembrava proprio quella di... che l'avesse seguito da figlio! Ma allora girmi! Signora Aquila! Eh, mi dispiace davvero, la vedo, è tutta ferita, mi dispiace davvero tanto! Però almeno lei le ali ce l'ha ancora! Eh, guardi qua, io non ho più le braccia, è un po' peggio, no? Eh, no, 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 non le ho perse, signora, no, 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 non mi sono cadute, signora, no, 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 chieda al suo pipitacchino, chieda, chieda che fine hanno fatto le bracciaglie, chieda, chieda! E quando l'Aquila seppe del regalo prezioso che il pipitacchio aveva fatto, che Frollo aveva fatto al suo pipitacchio, si inchinò davanti a lui dicendogli dimmi tutto quello che vuoi, subito, io ti prometto che cercherò di aiutarti! Signora Aquila, allora, io devo andare a cercare il verduzio per il mio papà e la mia mamma, ho già perso troppo tempo qui in questo nido, mi può portare a trovarlo? Per favore! Il verduzio? Fammi pensare, è da tempo che non ne sento parlare, fammi pensare, fammi pensare! Sì, so, vuoi poterlo cercare, ti porterò dalla vecchia che abita al capo di buona speranza, avanti, vieni, fam! E lo afferrò di nuovo per il collo e Frollo si sentì sollevare un'altra volta in alto nel cielo e anche se ferita, l'Aquila cominciò a galoppare, a galoppare con colpi d'ala nel cielo e Frollo fece giusto in tempo a girarsi, a vedere lontano, nel nido, pibidacchio che lo salutava! Con tutte le ali, piene di piume, perché era cresciuto nel frattempo, e ti credono, tutto quel che si era mangiato, via! E intanto l'Aquila continuava ad andare, ad andare, ad andare, finché arrivò all'ultima spiaggia, dell'ultimo scoglio, dell'ultimo capo di buona speranza e lì, pac, lo lasciò sulla riva e se ne sparì volando nel cielo Signora Aquila, ma un momento, che faccio? Signora Aquila, non mi lasci! Sì, aveva detto che qui ci sarebbe stata una vecchia, col verduzio, ma non c'era nessuno qua C'era tutta questa distesa enorme di... sembravano quintali di zucchero che entrava tutto in mezzo ai piedi Questo doveva... era quello che la mamma gli aveva fatto vedere sul libro di illustrazione La scabbia! No! La sabbia! Eccola! Ma allora se c'era la sabbia davanti ci doveva... eccolo lì! Il mare di mare! Guarda! Tutta acqua blu-verde che andava in tutte le dire... no! E poi... faceva tutta una schiumazza sputazzosa Guarda come... si gonfiava! Come se qualcuno gli avesse messo il lievito dentro! Guarda che faceva! Oh! Arrivava fino a qua! Hai visto? E poi il mare se la ribeveva tutto E scompariva fino a là Vediamo un po' se lo rifà adesso Mare! Rifallo un po' Mare! Dai! Fallo un po' E di nuovo il mare Eccola! Bisognava fare attenzione che se lo prendeva si squagliava tutto E poi di nuovo E se ne riandava lontano No! Vuoi giocare? Giocare Ma che sto facendo? Sto perdendo tempo come un bambino cretino qua Io devo cercare il verduzio L'aquila aveva detto che qua Qua non c'è niente C'è solo mare e sabbia Non c'è nessuna vecchia Eccola! La vecchia! Ma non c'era prima Da dove era venuta? Eccola lì C'era una vecchia Vecchia! Vecchissima! Tutta con le rughe in carta pecorite Come quella di una vecchia tartaruga Con le ossa che gli spuntavano da tutte le parti Prendevano le mani artritiche la sabbia E cominciava a filtrarla tutta Filtrava, filtrava, filtrava Finché alla fine restava un granello di sabbia Uno! Si girava e lo metteva su una piccola montagnola lì vicino Poi entrava con le sue zabbette seccose dentro l'acqua del mare Prendeva un'onda E la filava Filava, 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 filava Finché restava un granello di sale Uno! Si girava e lo metteva sulla stessa montagnola Poi di nuovo la sabbia Filtra, 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 filtra Un granello di sale Poi prendeva l'acqua del mare Filava, 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 filava Un granello di sale Allora Frollo si avvicinò Signora Che cosa state facendo? Non lo vedi cosa sto facendo? Stai zitto e guarda Sto lavorando Guarda Sì signora lo vedo No era soltanto Io mi chiamo Frollo Lo so come ti chiami Perché credi che stia lavorando? Eh? Perché credi? Signora Vuol dire che voi state lavorando Che cosa devo fare? Ecco cosa devi fare Stai fermo e zitto Guarda E cominciò veloce A impastare con le mani Quella sostanza di sabbia e sale E poi Dalle sue mani veloce Venne fuori uno sfilatino Con cinque Come se Pah Signora Ma mi ha riattaccato un braccio nuovo Con una mano che Che lo muovo come se E che Aspetta allora Guarda qua Un altro sfilatino Uno, due, tre, quattro, cinque Pah Signora anche da questo Ma come ha fatto? Che cosa è questa? Ecco Questa è una buona domanda Questo è il verduzio Il verduzio Ma allora l'ho trovato Signora Sono un po' verduziano adesso Ma allora è fatta Io basta che lo prendo E lo porto dal mio papà E dalla mia mamma Grazie Fermo Il verduzio è il condimento della vita Guai A prenderne poco Guai A prenderne troppo Ogni uomo Deve scoprire Quanto gliene serve Anzi Questo è il vero scopo della vita Scoprire Quanto te ne serve Ecco perché Tu ancora Non sei cresciuto abbastanza Tu non sei ancora Cresciuto abbastanza E vabbè signora Non si arrabbi Io la ringrazio Che mi ha dato le braccia E le mani Ma non sarà Non sono cresciuto abbastanza Crescerò Che ne so Mi dica lei allora Che cosa devo fare Cosa devo fare Il verduzio non lo posso toccare Cosa devo fare Ecco Bravo Ascolta Trova subito la tua spada Perché il tuo nemico Sta per arrivare Vabbè La spada signora Che spada Qui c'è tutta Sabbia e acqua Signora scusi Adesso non è per dire Cioè Se vuole cerco anche la spada Però A me il verduzio Si dice Cerca la spada Che il tuo nemico Sta per arrivare Mamma mia Sti vecchi Proprio Cerco la spada Vabbè Vabbè Cerchiamo la spada Perché capirai La spada qui Ci crescono le spade Come i funghi qua No Magari col cartellino Con scritto Spada di frollo Ma va Scaviamo qua Ecco Scavo qui a terra Non c'è nessuna spada Non c'è solo sabbia Anche qua Se scavo C'è solo sabbia Lo vede signora Qua non c'è nessuna spada Signora Ma dove era andata Ma era qui un momento fa Signora Vecchia L'aveva lasciato qui Col verduzio Lì che non si poteva Neanche prendere Con questo compito Del cavolo Di trovare la spada Dove la trovava Lui la spada Non c'era nessuna spada Qua Non c'era niente Niente di niente Non c'era neanche Un indizio Che ne so Qualcosa che brillasse Come quella cosa Che cosa Tutte le volte Che il mare Se ne andava Lasciava affiorare Come una cosa Che colpiva Proprio Che brillava Negli occhi Aspetta Alla prossima ondata Avvicinarsi E scavare E scavare Proprio lì Eccola Tira proprio La lama E attenzione Arriva l'acqua E di nuovo Via Scavala tutta Scavala tutta Guarda quanto è lunga Ma è uno spadolo Attento all'acqua Guarda qua Proprio Lei sta da Printer E' incastrata Forza Frollo Attento all'acqua L'acqua Tira Frollo L'acqua Tira L'acqua Tira Che spadone Guardate che Meraviglia Però Tutto Guarda come Caliente Poi Che Mera Guarda che Adesso Ti immagini una fotografia Qua Così Per la mamma Frollo Con la sua spada Guarda che Proprio che Sembra la mia Che aveva detto La vecchia Sbrigati Perché I tuoi nemici Stanno per arrivare Ma quali nemici? Qua non c'era nessun nemico C'era solo l'acqua del mare La sabbia La sabbia E là dietro C'era tutto il vento Che sollevava Il vento Ma non c'era vento C'era tutto un polverone Di sabbia Che avanzava Enorme Come se ci fossero Ecco E infatti si sentivano I passi di Stavano avanzando Stava avanzando Un esercito Che sollevava Tutto quel polverone Dovevano essere Centinaia Doveva essere Un battaglione E ragirmi Da solo E ragirmi da solo Enorme Che una grossa Fancata Che ingogliava Qualsiasi cosa Trovasse sul suo cammino Dietro c'era il vuoto Le zampe poggiavano a terra E ogni zampa Un rimbombo Faceva Che devo fare adesso? Se scappo di qua Mi raggiunge Di qua anche in acqua Mi squaglio Devo lottare con la spada Ma non so neanche Come si fa io Prendila Frollo Dai Prendila Senti com'è pesante E dietro Girmi si era giusto Fermato E aveva cominciato Ad aprire E il fiato puzzolente Arrivava Finito Presto Avanti Ora o mai più Frollo Forza Ecco lo sta per scattare In avanti E il corpo di Girmus Hai visto? Un colpo Ma hai visto? No Ma hai visto? No 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 Porca Che meraviglia Che se Che adesso si Che con la testa qua Adesso la foto Eh Che ti metti con la spada qua E col piede sopra la Sopra la 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 Non era morto Non era morto La testa si Immuoveva E dalla testa Che si stava Trasformando Si aprivano gli occhi E uscivano delle zampe metalliche Il cranio Si apriva E uscivano altre zampe metalliche E la bava colando Formava come tutta una lamiera Una specie di macchina Che cresceva davanti a lui Enorme Gigantesca Cursiva Con Si Nonfiava con gli occhi E la bocca Come quella di una macchina scavatrice Devastatrice Eccola Avanzava verso di lui La spada Ma come faceva Quello era tutto acciaio adesso Come faceva Se lo sarebbe mangiato Come un bignè Aspetta Aspetta Non mangiare prima me C'è il vertuzio Il vertuzio Quello che hai cercato Per tutta la vita Guarda Sta là No Aspetta Non così La vecchia ha detto Che non si deve mangiare Che ognuno ne deve Non lo doveva ingoiare Tutto Non lo doveva Tutto Tutto Dentro La macchina Cominciava a sent A sentirsi La macchina cominciava A gonfiarsi Le viti E i bulloni Cominciavano a schizzare E la bocca I denti E gli occhi E allora Frollo Prese lo spadone E con una rincorsa avanti Forza dado e contro dado Via all'ombelico Pas Nel cielo volarono Tutti i pezzi Di girmi E tutto quello Che si era ingoiato In tutta la sua vita Volò nel cielo Anche il dottore E tutti quei pezzi Ricaddero Sulla spiaggia Che divenne così Come tutte le altre spiagge Del mondo Una schifezza Ma Frollo Aveva vinto Grazie all'ingordigia Di girmi L'aveva fatto fuori Aveva salvato tutti Non solo il suo papà La sua mamma Da solo Che Che impresa Peccato che non c'era Un'anima Che l'avesse vista No Perché poi la racconti E nessuno ci crede Dopo che c'è stato giro E così Che adesso Se c'era qualcuno Che magari con una fotografia No Invece Nessuno Non c'era una La vecchia Era tornata Adesso Prima che c'era da combattere Adesso era tornata No No, no, no Aspettate Non era Cioè Sembrava Perché non era No, perché La vecchia Prima Aveva Tutte le rughe Sulla faccia Era tutto E questa invece Era tutta La vecchia Aveva tutti i capelli Prima tutti afficcicati Sopra E questa invece Aveva tutti i capelli La vecchia Prima aveva il corpo Che era tutto Raggomitolato E invece Adesso aveva tutto Un corpo Che Wow E veniva proprio Verso di Frollo Con delle dita lunghe Con tutte le unghie Colorate E passava proprio Dietro Frollo E gli metteva le mani Sulla testa E lo correzzava Oh Che carezze Un profumo Mandava la donna E poi Frollo si distese La donna Gli fece mettere la testa Sul suo grembo Che grembo E dopo qualche secondo Erano lì Che si abbracciavano Si sbacciucchiavano Su uno dentro l'altro Che proprio Una cosa Una passura Una cura Una meraviglia Che Frollo Non l'aveva mai provata Una cosa così Non gliel'aveva detto Nessuno Che era così Ma Poi Stancante anche Che dopo Erano tutti e due Sdragliati Sulla spiaggia Così che la donna Ancora lo carezzò E gli diceva Frollo C'è ancora una cosa Che vuoi conoscere Nella vita Vuoi? Ma certo Che voglio Che cos'è? Sei sicuro Di volerla conoscere Frollo? Vuoi? Sì sì Voglio voglio E allora la donna Con molta dolcezza Gli prese La testa E gliela infilò Dentro l'acqua del mare No Aspetta Io Io così Io mi spoglio Tu Affogo Ma le braccia Della donna Erano fortissimi E Frollo Sentì Tutte le particelle Del suo corpo Che si scioglievano Nell'acqua Gli amaretti Si sbriciolavano La ciliegina Lentamente Andava a fondo Nella bocca Diveniva Buccia di limone Sulle onde Adesso Frollo Era schiuma Donda Era Niente O forse Era tutto E dopo Un tempo Che durò Un'eternità Frollo Cominciò a sentire Da lontano Arrivare Da tutte le parti Una musica grande Come se cento orchestre Suonassero Tutte assieme E la musica Faceva un grande vortice Come un uragano E cresceva E il vortice Faceva una spirale E la spirale Precipitava Giusto Giusto Dentro Dentro Due orecchie Due orecchie Ma aspetta Se c'erano due orecchie Ci doveva essere Anche qualcosa Che le teneva Una faccia Una testa Con dei capelli Degli occhi Che si aprivano E chiudivano È un Un tasso È un Evidente È un Vengua Le cascole Sono tutto sudato Puzzo Dunque sono E Frollo Uscì Dall'acqua Del mare Trasformato In quello che sono Tutti gli esseri Viventi Fatto di sudore Lacrime Saliva E sangue Afferrò un po' Di sabbia E se la strofinò Sulla testa Come aveva fatto Tante volte Con lo zucchero a velo Per ricordarsi anche Che da lì Veniamo tutti Dalla sabbia E dal mare E poi Cominciò a provare Il suo nuovo corpo Fece dei salti Caprioli Cominciò a fischiare No anzi a cantare Si tuffò in acqua Nuotò un po' Poi tornò a riva Si stese al sole E poi nuotò ancora E poi via Cominciò a correre E da quella parte Cominciò ad andare Verso i canneti E a destra A sinistra A sinistra Da quella parte Altri canneti E poi ancora Questa volta In mezzo al torrente E poi in mezzo agli alberi Salire sugli alberi Arrampicarsi Scendere dall'altra parte Scendere E andare E continuare a E continuare Ad andare E ancora adesso Starà correndo Per il mondo E io non so Dove sia andato a finire Perché C'è un unico luogo Al mondo Dove andare Veramente E quel luogo È il tempo Grazie a tutti Grazie a tutti